Musica Mangiano parecchio questi cani? Loro? Adesso si facendo almeno un secco, colazione, non è un passaporto per la colazione, perché sennò poi dopo due ore lavorano, farebbero delle grandi congestioni, magari ha sempre lavorato. Sì, è un posto. Loro dicono che questi cali soffrono, secondo me no. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Al prossimo episodio